date l'insieme Q e P si agì una funzione da Q verso P che al numero 2 fa corrispondere 5 a 3 fa corrispondere 6 a 4 fa corrispondere 7 osserviamo che su tutti gli elementi di P arriva una sola freccia questo vuol dire che tutti gli elementi dell'insieme P hanno una sola controimmagine in Q e questo vuol dire che la funzione G è iniettiva e soggettiva la funzione G si dice allora che è bionivoca